Alla fine della manifestazione dei precari a Roma, un gruppo di lavoratori del servizio del trasporto pubblico cittadino è salita sulle impalcature per il restauro del Colosseo. Siamo saliti per chiedergli del perché di questa lorazione. Siamo saliti sul Colosseo per chiedere l'immediato reintegro dei due nostri delegati dell'Unione Sindacale di Base sospesi dall'azienda Trotta Bus Service per aver rilasciato dichiarazione alla trasmissione televisiva. Ora tu stai rilasciando una dichiarazione, non hai paura? Ho paura ma per contrastare queste nuove politiche del governo affrontiamo a testa alta queste battaglie perché siamo coscienti che la libertà di parola e di espressione sia un sacrosanto diritto di ogni lavoratore italiano. Noi restiamo qui fino a che non ci vengono date delle risposte definitive. In questo momento abbiamo due nostri delegati che sono stati convocati in Campidoglio e in base a quello che ci diranno decideremo e sceglieremo se scendere oppure continuare la lotta a oltranza. Quanto potete rimanere qui sul Colosseo? Credo che vista la sospensione dei due lavoratori non abbiamo nessun limite di tempo, non ci sono altri impegni.